Tutti li stanno facendo uno scherzo. La ragazza dice a suo marito che lo scherzo è bello. Il ragazzo è d'accordo. La donna si alza dal divano. Poi le chiama la ragazza. La ragazza chiede cosa sia successo. La donna chiede un po' alla ragazza per suo marito. E la ragazza dice che una notte loro tre staranno meglio. La donna chiede se il marito della ragazza lo accetta. E la ragazza dice di sì. Il ragazzo chiede cosa sia successo. Dice che va tutto bene. La donna dice che deve tornare a casa. La ragazza dice al marito che sua moglie è bellissima oggi. Interroga sua moglie. E la ragazza dice che sarebbe bello per loro tre stare insieme. Il ragazzo dice di essere sposato con la ragazza. E la moglie dice che sarebbe bello se facessero una cosa del genere. Il ragazzo risponde che non pensa che sia giusto. La moglie dice che c'è qualcosa di nuovo tra loro. E non c'è niente di sbagliato nel farlo. Il ragazzo si arrabbia e dice di no alla moglie. La ragazza commenta che suo marito si arrenderà ancora. La ragazza chiama sua sorella. E dice che suo marito non l'ha accettato. La donna risponde che immagina che tutti gli uomini lo desiderino. La ragazza dice che preparerà una sorpresa per suo marito. La donna chiede quale. E la ragazza chiede di accompagnarlo. Il ragazzo dice che può entrare. La donna appare e chiede se il lavoro era finito. Si chiede perché è vestita così. Dice che è una piccola sorpresa per lui. Il ragazzo dice che non è necessario. La donna dice che si è preparata per lui. Il ragazzo esige rispetto per la donna. Cerca di baciarlo. Il ragazzo gli dice di smetterla, poiché rispetta sua moglie. E lui dice che ne ha abbastanza e se ne va. E quando se ne va, dice che questa è una mancanza di rispetto. La ragazza decide di chiamare la ragazza. E le dice di fare la sua parte. E dice che ce la farà. Il marito arriva e chiama la moglie. Chiede cosa è successo. Il ragazzo commenta che stanno accadendo cose strane e non gli piace niente. La ragazza chiede di calmarsi. Il ragazzo dice che è già stressato. E la moglie dice di parlare in camera da letto. Il ragazzo dice che ha davvero bisogno di chiarire le cose. E la ragazza dice di sì, lo farà. I due entrano nella stanza. La donna aspetta sul letto. Il ragazzo chiede cosa ci fa lì la donna. La moglie dice che gli piacerà la sorpresa. Il ragazzo risponde che gli ha già detto che non vuole. La moglie dice che se non lo fa chiederà il divorzio. Il ragazzo gli chiede se lo farà. La ragazza dice che questa è una prova d'amore. La donna dice che il ragazzo non se ne pentirà. E la ragazza dice che piacerà a suo marito. Il ragazzo commenta che lo farà solo perché sua moglie glielo chiede. E ringrazia il marito. La donna scopre di essere incinta. La ragazza chiede cosa sia successo. La donna dice di essere incinta. Chiede se è di suo marito. La donna dice che non voleva questo, ed è successo e basta. La ragazza si arrabbia molto e aggiunge che è stata la donna a pianificare tutto questo. La donna risponde che non lo aveva pianificato. E la ragazza dice che porterà via il bambino. La donna dice che non è giusto. La ragazza dice che la donna porterà via il bambino. La donna dice di no e vorrà conoscere l'opinione del ragazzo. La ragazza dice di non commentare mai. Il ragazzo chiede cosa sia successo. La ragazza risponde che è solo la donna che vuole attirare l'attenzione. Il ragazzo chiede di nuovo cosa vuole la donna qui. Lei risponde che è incinta di suo figlio. La ragazza è irritata dalla donna che parla con suo marito. Il ragazzo è perplesso. E commenta che è colpa della moglie. La ragazza dice che è finita e ora ci sono solo loro nella relazione. Il ragazzo dice che ha torto. La ragazza interroga il marito. E commenta che si prenderà cura di suo figlio. E commenta che quello che aveva da dire lo ha già detto. La ragazza chiede se la donna è felice di porre fine al suo matrimonio. La donna dice che non voleva farlo. La ragazza dice che è complicato e quando si tratta della vita la questione è seria. E i due finiscono per fare pace.